Parliamo chiaramente ma non troppo, purtroppo non sto qui a dirvi cosa ho avuto, però ho avuto un virus molto brutto e non soltanto uno che mi ha debilitato in questi mesi, che mi portava alla febbre ogni 10-15 giorni, quindi io ho giocato molte partite anche con la febbre pur di stare insieme alla squadra, sono state davvero poche le partite in cui sono stato bene, questo mi dispiace molto non è stata né colpa mia né colpa dell'allenatore, non è stata purtroppo colpa di nessuno perché come Covid sono virus che si prendono ed ovviamente poi c'è stato anche il Covid che mi ha di nuovo fatto abbassare le difese immunitarie e ho ripreso una tonsillite dei batteri Vincenzo Plescia da quando è arrivato in Pompa Magna ad Avellino è sempre stato un mistero irrisolto, un'eterna incompiuta, un oggetto di critica e di sfottò in maniera a volte brutale, secca e netta, eppure qualcosa non tornava, quel calciatore brillante, potente e decisivo doveva essere nascosto da qualche parte, trincerato dietro un problema e clissato da un non detto bastava una conferenza stampa, sincera, per saperlo con certezza, non che Piero Braglia non l'avesse detto mille volte Plescia un'infezione, ripeteva, è stato sfortunato, ma sentirlo dalla sua voce ha creato altro un'empatia, una comprensione ed anche una convinzione il ragazzo è desideroso di tornare, lotta, si impegna, non si piange addosso insomma si comporta da grande professionista nonostante i problemi abbiano rischiato davvero di affossarlo l'infezione che l'ha colpito non riesce nemmeno a nominarla e giustamente non dobbiamo noi per gossip o curiosità saperlo rivelarlo la piazza deve solo sapere che ha un calciatore forte a disposizione e che deve avere la pazienza di aspettarlo il tempo forse non gioca a suo favore in questa stagione regolare ma una chance dobbiamo concederla chi sa mai che il rigore liberatorio di sabato non abbia scacciato i fantasmi ed invertito la rotta sarebbe una fortuna per tutti gli attori che recitano in questa storia soprattutto per questo ragazzo che ha decisamente un debito con la sorte